C'ho di più loro Guarda i belli quelli piccoli Guarda i belli, sono pure buoni Ah raga il cane ci sta a fissare Eh? Raga? Raga? Stanno arrivare? Raga? Allora siamo qui Raga? Siamo qui e ci sono Becone Ora numero? Quattro a tre E' Pasqua Agnellini Raga arriviamo a ripighe con uno di questi Belli? Vabbè che uno ce lo darà? Tu dici? Se si inculano Porco due Se te lo prendi Avete appena assistito alla prima aggressione di pecore Nella storia De Agnellini poi De Agnellini Sono i sette Sono i sette Stavamo in viaggio Più o meno Mi pare mezz'ora Mi pare mezz'ora E tu mi chiamassati la sede No sai che è che avevo sopravvalutato il viaggio Scarpale Patrizio Sì c'è stato il fernetto di mezzo Eccole scarpamata di Patrizio E' il fernetto Ah regà Namose No 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 regà Io c'ho paura di sì così Ma come c'ho paura di mezzo? Guarda come zompa no Ma non me vanno Come sa la cosa? Domani voglio vedere che lo pasturi Vediamo la stessa cosa Anche lo pasturi Per tutti quelli che domani mangeranno delle pecore Guardate Come fate a mangiarle? Da qui vengono gli agosticini Oh questo ci fa del pecorino Vediamo tra un po'